Quello di Grillo e i pagliacci come quello di Berlusconi. Perché? Che è successo? Ho detto che questo ormai è diventato una casa come i truppatori, i pagliacci e i zomni come quella di Grillo e di Berlusconi. Ma per colpa di chi? Perché non hanno la cultura della governazione. C'è sempre la lista civica. C'è sempre la lista civica.